Ciao, benvenuti in un nuovo video dedicato alle sorpresine Kinder, a questo speciale che abbiamo voluto fare in questa settimana. Oggi parleremo di vide da pasciaco di Squalibaba del 1995. Vediamo che la novità in questo caso era che dietro ogni cartina c'era un bigliettino personalizzabile in cui potevate mettere una frase, quindi le cartine sono varie. Grazie. Andiamo avanti con i fosforescenti fantasmini del 1996 che si vedevano al buio, di cui ne hanno fatto anche un sequel dopo gli anni 2000, di cui quindi non parleremo in questo video. Grazie. 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 Per finire ci sono in mucho gusto con gli elefantao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.